un saluto a tutti a snowkills e ben ritrovati in un nuovo video questa volta siamo con un gioco che appena scaricato ho visto che fighissimo si chiama war friends in questo gioco andremo a sfidare altri giocatori quindi un gioco pvp in una sfida shooter davvero simpatico è fatto bene questo gioco allora prima di andarci a fare una partita direttamente vi un attimo dico al volo presente abbiamo quattro truppe che sono diciamo i soldati che vanno lì col fucile a pompa diretto quel tizio con il mitragliatore leggero un po più lontano quello che lancia granate è quello d'assalto mentre loro li portiamo sempre con noi vado a potenziare questo qui non sono espertissima e ci sono anche le armi armi che man mano che si sbloccano i ranking andremo a sbloccare l'arma primaria il fucile da cecchino esplosivi e pistola ragazzi questo gioco è veramente simpatico allora ancora non sblocco il resto ma quello che volevo andare a fare adesso una partita insieme a voi per farvi vedere questo gioco fighissimo trovate ovviamente sul play store non so se c'è anche su apple l'unica cosa non è disponibile per tutti i dispositivi infatti mi sono reso conto che sul telefono ad esempio sull's3 sul mio s3 neo non viene trovato quindi non è compatibile detto questo andiamo con la prima partita warfriends 96 16 86 è pronto a giocare allora lui è un po più forte il tizio con la mitragliatrice leggera io un po più forte il granatiere e ho più forti le armi livello 9 lui solo livello 4 quindi dovrei dovrei fargli seriamente male allora vediamo un po' prendete come funziona posso attivare le mie truppe quando voglio per esempio adesso gli mando quelli col pompa e posso spostarmi tra uno scudo e un altro ok per sparare bisogna tappare su allora se esce di qua lo sciottiamo malissimo no oh merda no qua oh cazzo sta ricaricando ci farà malissimo oh merda oh merda ok allora si possono lanciare le granate una figata così bisogna lanciarle boom allora la no ok sto prendendo seri danni mettiamo la cappa rimettiamo il fugito da cecchino headshot sono un bel po' devo ripulire i suoi soldati allora vediamo un po' questo tizio cosa fa allora rimettiamo il fucile e occupiamoci di questi che ce li ha a livello 4 e questo col pompa non mi deve venire a rompere le palle ricarica dai ricarica ricarica merda si stanno avvicinando quelli deve ricarica tutto sto tizio che cazzo no vabbè non ci siamo non ci siamo beccati un granatone no ti cecchino wow ragazzi che cecchinata boom e boom ah no il tizio con la granata l'ho ucciso ci sta ho vinto una loot box ricevuta scorri per aprire apriamo hai completato occhiali neri partiamo in comune assegna dai glielo diamo prossima loot box scorri per aprire altri occhiali nuova loot box gratis mi devo beccare la pubblicità cosa non si fa per un baule gratis e andiamolo ad aprire ok tutti occhiali occhiali in continuazione vabbè siamo pieni di occhiali ma direi che un'altra partita la ci sta che perché una lascia sempre un po' così vediamo si può che si può fare si può potenziare questo ah l'ho potenziato oh compro ora 19.000 cazzo dentro me che fa questo questo deve essere tipo potentissimo cioè non ho unità cecchina cioè micigliere eh prendiamo cazzo 20.000 è un botto vabbè prendiamola che dobbiamo fa andiamo anche a destra non ci abbiamo 1.800 quindi dobbiamo andare a combattere per coach a 107 che ci parti per sbloccare il successivo livello ma tanto inutile non ho i cash diciamo combatti ok vai vediamo questa volta sono superiore in tutto anche questa volta ragazzi non ho fatto niente ho preso il gioco con l'oro che mi ha dato e le gemme li ho cliccato e me li sono potenziati quindi non capisco perché non lo hanno fatto anche loro comunque vediamo un po vediamo un po vediamo un po allora innanzitutto gli mandiamo l'assalto qui mamma mia che male allora tiriamo una granata a quel tipo dai perché non l'ho preso headshot come si sporge boom headshot beccati sto granatone fuoco a volontà su quei tizi fuoco a volontà su quei tizi dai sporgiti perché non l'ho preso dai cazzo headshot oh dolore dolore amico dolore beccatevi sta granatina beccatevi sta granatina muori tu muori e a te ti voglio headshot boom no perché non l'ho preso ah forse qua non è come a pubg no tu muori 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 merda prenditi questo granatone no l'ho ucciso qualcuno con cosa non si sa un proiettile il mio cecchino appena sbloccato lo ha fatto fuori grande amico sniper gg ci siamo beccati di entrambi questi game perché questi due non si erano potenziati le armi infatti li ho fatto tipo malissimo perfetto comunque due partite ce le siamo fatte volevo farvi vedere questo gioco proprio perché secondo me è davvero divertente è fighissimo poi ho giocato al pc alzo perché immagino che al tablet il cecchino non sia il massimo comunque anche su alcuni telefoni ho visto che funziona sull'S5 funziona quindi il mio sono stato un pochettino sfigato in ogni caso se il video vi è piaciuto lasciate un bel like lasciate anche un commento fatemi sapere che cosa ne pensate lo potete ovviamente scaricare anche voi si può giocare anche in team e ci si può invitare contro gli amici scontrarsi con gli amici insomma ho visto parecchie cosette sembra davvero simpatico nel caso vi porterò anche altri video se appunto vi piace questa serie di questo gioco io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video